Bene, io devo ringraziare tutti quelli che hanno aderito al mio progetto, sia quello di portarsi a casa la musica dei nostri grandi artisti e delle nostre grandi orchestre, perché è un piacere tenerle come sottofondo durante la giornata, magari mentre si fanno i lavori di casa o mentre ci si rilassa, perché no, sul divano e nel frattempo facciamo un regalo ai nostri grandi artisti, alle nostre grandi orchestre, quelle che vi ho fatto conoscere durante la nostra trasmissione prossima a Fermata Liscio e che avete iniziato ad amare, perché so che ci sono davvero delle orchestre che vi sono entrate nel cuore, continuo in questo progetto, ovviamente allargandolo, perché tanti altri artisti, sentendo questo progetto, si sono uniti e questo per me è un grande piacere, perché io ho l'opportunità quindi di offrirvi, decidi, gli artisti grandissimi e meravigliosi, oltre a quelli che avevo già a disposizione, orchestre come La Storia di Romagna e artisti come Omar Codazzi, quindi non esitate, telefonatemi per ricevere a casa vostra questi bellissimi cd che siano di sottofondo musicale per le vostre giornate, ma nel frattempo facciamo sentire loro richiedendo i loro cd che li amiamo, che ci mancano, che non vediamo l'ora che ritornino su un palco e che noi sotto possiamo goderci la musica dal vivo e soprattutto facciamo girare un po' l'economia, perché è un settore che ha subito tantissimo in questo periodo di fermo che sta prolungandosi, non avendo l'opportunità di avere date, quindi di stare a stretto contatto con voi, perché siete voi che poi date loro l'adrenalina, date loro la carica, sono davvero in momenti difficili. Quindi vi ho preparato dei bellissimi pacchetti, vi ricordo che i cd sono tre, basta che voi mi telefoniate per dirmi quale pacchetto volete a casa vostra, a questo pacchetto che di solito essendo tre cd, dvd, la spesa sui 30-33 euro, devono essere aggiunte le spese di spedizione e di contrassegno, perché io desidero che quando arriva il postino che suona a casa vostra, voi quando aprite dovete soltanto ritirare il pacco e dare quella cifra esatta contato, non un euro di più, quindi arriviamo più le spese di spedizione e di contrassegno da 33 euro a 45 euro. Bene, io vi faccio avere tutto a casa vostra a soli 39 euro, compreso spese di spedizione e di contrassegno, e in più inserisco un bellissimo regalo. Devo dire che la candela che ho finora regalato ha avuto un grande successo, è piaciuta moltissimo, ma ho degli altri bellissimi regali da inserire nel pacco, sempre prossima, fermata liscio. Quindi aspetto che voi mi telefoniate per avere a casa vostra la musica dei nostri grandi artisti. Fatelo come hanno fatto tantissimi amici finora e così faremo girare l'economia, faremo sentire le nostre orchestre, i nostri grandi artisti che li amiamo, che ci mancano, e in più avremo a disposizione a casa nostra tanta bellissima musica che faccia di sottofondo alle nostre giornate. Aspetto le vostre telefonate!